Ragazze come state? Spero benone. Oggi location casereccia, ok? Mattina location casereccia. Oggi vi parlo di un trattamento che idrata internamente, quindi fa bene anche alla pelle, fa bene anche ai capelli perché idratandoci internamente apportiamo benefici anche all'estetica e comunque alla salute di tutto il nostro organismo. Aiuta a perdere chili nella pancetta, soprattutto idoneo per perdere chili pancia a fianchi, aiuta a drenare la cellulite, quindi eliminare la cellulite e aiuta a dimagrire. È un trattamento che possono fare solamente le persone che non hanno problemi, per esempio i reni, non hanno patologie e sono sane. Se avete problematiche renali, se avete patologie, se avete problemi di salute o state seguendo una dieta particolare per salute o dei farmaci particolari perché state seguendo una cura sempre per problemi di salute, chiedete prima al vostro medico. Se il vostro dottore medico vi dice si puoi fare questo trattamento, procedete. Se dice no, non lo fate. Assolutamente. È importante. Cosa bisogna fare? Io non voglio farvi vedere marcha né niente perché non è quello che mi interessa. Due bottiglie da un litro e mezzo per capire la grandezza, ok? Teiera, si mette dentro. Un limone, bisogna tagliarlo a metà, spremerlo benissimo e mettere dentro il succo. Puoi buttarci dentro anche le due metà perché anche la buccia, quando poi si fa bollire, devi lasciare le proprietà necessarie per questo tipo di tisana. Un limone, ok? Spremuto da paura, cioè bene bene bene, più le due metà buttate dentro con la buccia. Zenzero, lo tagliuzzate, ne basta per esempio questa punta, la tagliuzzate in diversi cerchietti, rondelline e lo buttate dentro la teiera. Mettete nella teiera un litro di acqua e la fate bollire. Portate ad ebollizione come un tè, nel senso come una tisana, appunto normale è una tisana. Dopodiché spegnete quando poi è pronta perché ha bollito e tutto, la lasciate dentro la teiera coperta, chiusa per almeno 20 minuti e mezz'ora. Dopodiché riempite due bottiglie, io due perché voglio, perché bevo praticamente quasi tre litri di acqua al giorno, però incominciate con un litro e mezzo se non avete problemi di salute, altrimenti chiedetelo prima al medico se potete fare questo. E basta, durante il giorno bevete, ogni tanto dovete finire la vostra bottiglia, io nel mio caso due. Quindi bisogna bere almeno due litri, due litri e mezzo poi, se sono tre meglio, di acqua o tisano, tè verde o di questa nuova tisana praticamente, al giorno, durante il giorno. Ripeto, se non avete problemi di salute, altrimenti chiedete al medico che ha problemi renali, non può assolutamente fare questa terapia, questo trattamento, se prima non chiede al medico. Andate avanti così, per quanto, per sempre, perché fa bene, fa bene, previene le rughe, vi aiuta a mantenere la forma, idrata la pelle, i capelli, idrata l'organismo dall'interno. Ragazzi, questo è quello che volevo mostrarvi, scusatemi se muovo un po' la telecamera, ma la location è così, sono in piedi, volevo farvi vedere e lo zenzero e il tutto. Quindi limone e zenzero, ripeto, fa dimagrire, aiuta a perdere chili, aiuta a drenare, è fantastico per la cellulite, aiuta a far andare già la pancetta, la panciotta, i fianchi e idrata, quindi la pelle diventa stupenda. Attenua le rughe, perché idratando dall'interno combattiamo le rughe. Allora ragazze, se vi va, se potete farlo perché non avete problemi, eccoci, questa è la tisana che poi non è neanche cattiva, a me piace, comunque il limone piace tantissimo, è più forte dello zenzero, secondo me, ovviamente i gusti sono gusti. Un bacione grandissimo, mi aspetto qualche mi piace, fate crescere il canale, vi prego, anche se ho queste riprese un po' così. Un bacione grandissimo, oggi c'è il sole e io il sole lo adoro e ve lo dedico, il sole lo dedico a tutte voi, perché voglio che siate tanto tanto solari. Ciao ragazze.